una perturbazione nord atlantica attualmente sul golfo ligure con le prime piogge che interessano le zone costiere centro settentrionali della toscana la fase più intensa nelle prossime ore quando le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco e tenderanno ad estendersi anche alle zone interne in toscana domenica 15 febbraio molto nuvoloso con piogge diffuse durante la notte il primo mattino successivamente a carattere sparso quota neve inizialmente intorno a 800 millimetri in rieve rialzo nel corso della giornata venti deboli di scirocco sulle zone interne tra deboli e moderati sul coste arcipelago mari mossi a largo tra poco mossi e mossi sotto costa temperature in lieve aumento le minime stazionarie le massime sul territorio provinciale molto nuvoloso coperto con pioggia anche di forte intensità miglioramento dal pomeriggio a lucche sulla piana temperatura minima 5 massima 11 gradi in versile sul litorale minima 9 massima 14 in garfagnane zone montane minima 3 massima 11 gradi lunedì da nuvoloso a poco nuvoloso con temperature stazionarie